Un malore fatale ha tolto la vita ad Ottavia Lotti, la 46enne fanese, deceduta sabato scorso mentre passeggiava lungo la spiaggia dell'Arzilla. Improvvisamente si è accasciata sull'arenile. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 allertati da un amico della donna. I sanitari giunti sul luogo hanno trovato la sbarra di accesso alle spiagge chiusa, non potendo accedere con l'autombulanza, ma subito facilitati da un uomo che ha agevolato il soccorso aprendo la sbarra che si trova poco prima del sottopasso ferroviario. Normalmente la sbarra è sempre chiusa, sono gli operatori della spiaggia che hanno le chiavi di accesso per poter aprire questa sbarra. Nel periodo estivo è sempre chiusa, nel periodo invernale io esattamente non lo so, normalmente è sempre chiusa, però non so se il comune ha fatto qualcosa per poter lasciarla aperta, però normalmente è sempre chiusa la sbarra. Possono aprire tutti quelli che hanno gli stabilimenti dalla parte di là, i bar, le attività commerciali, in più so che anche l'ASET ha le chiavi perché al mattino, nel periodo estivo per pulire la spiaggia passano con il camion. Il 118 ha praticato la rianimazione impiegando anche adrenalina per circa un'ora e mezza, ma le condizioni della 46enne erano molto gravi. La donna è stata trasportata in codice rosso al Santa Croce di Fano, ma i tentativi di rianimarla sono proseguiti senza nessun risultato. Ottavia godeva di ottima salute, secondo il medico potrebbe essere stata colpita da un infarto massivo oppure da un'aritmia grave, ma spetterà al medico legale accertarlo. Il magistrato ha disposto l'autopsia per verificare le cause precise della morte. L'episodio ha destato grande apprezzione tra i frequentatori della spiaggia, che durante l'inverno praticano sport o portano a spasso il proprio cane, come faceva Ottavia, conosciuta da tutti come sportiva e amante delle passeggiate in riva al mare. La donna, che lavorava nell'ambito della consulenza della comunicazione commerciale, lascia un figlio di 15 anni e il marito.